Buongiorno Orchideria di Marosolo, Orchideana Medicina per l'Anima. Vi ricordo sempre i libri, questo è l'ultimo di un mese fa, è stato pubblicato un mese fa, Orchidestori, personaggi di quarta edizione, 572 pagine e questo invece è quello dell'anno scorso, cambia colore della copertina, questo è rosso, quell'altro è blu, questo è 369 pagine, hanno tre grandi pregi, costano poco, sono semplicissimi, li ho scritti io, allora intanto tanti auguri a tutti di buon Natale, buone feste e speriamo che l'anno prossimo sia meglio di quello di quest'anno che quest'anno è stato un po' un casino, anno bisesto, anno funesto, non vediamo allora che finisca. Allora le poesie del Pascoli, sono due poesie natalizie del Pascoli, la prima le ceramelle, le ceramelle sarebbero le zampogne, le cornomuse, io un bellissimo ricordo di quando ero piccolino delle cornomuse, mio padre faceva il mercato Varese, a Varese c'era loro un grande mercato in Piazza Repubblica e c'era anche il mercato dei fiori che erano una decina di mancarelle, c'era anche mio padre che mi lasciava mancarella e mi ricordo quando ero un ragazzino, un bambino, non so dieci anni o giù di lì, quando c'era le vacanze di Natale andavo al mercato assieme a mio padre e quando arrivavano le zampogne era bellissimo e sentivi che arrivavano da lontano che attraversavano il mercato? Avevano un repertorio di due canzoni, sono solo quelle due canzoni lì, o tu scendi delle stelle e poi c'era un'altra canzone che adesso non la sento più che si chiamava Piva Piva l'olio d'oliva Piva Piva l'olio d'oliva, una roba così, ma era bellissimo. Poi quando arrivavano le ceramelle, le zampogne, perché partivano dall'altra parte del mercato, quando arrivavano lì dove eravamo noi, quando le vedevo restavo a bocca aperta perché mi sembrava una magia, mi sembravano usciti dal presepe, perché erano vestiti proprio come le statuie del presepe, bellissimo, e penso per me, perlomeno, forse quelli della mia generazione, la più bella colonna sonora del Natale sono le zampogne, tu scendi dalle stelle e Piva Piva l'olio d'oliva. Vabbè, c'è una grossa differenza tra le ceramelle zampogne che avevamo noi e quelle dove abitava Pasquale perché di noi arrivavano di giorno, da lui arrivavano prima dell'alba. Difatti si svegliavano col suono delle ceramelle. Allora le ceramelle. Udite il suono le ceramelle. Udite un suono di nene e nanne. Ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumini nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ceramelle senza dire niente. Hanno destato nei suoi tuburi tutta la buona povera gente. Ognuno è sorto dal suo giaciglio. Accende il lume sotto la trave. Sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio, di cauti passi, di voce grave. Le pie lucerne brillano intorno. Sembra la terra prima di giorno. No, le pie lucerne... ci vedo poco. Le pie lucerne brillano intorno. Là nella casa, qua sulla siepe. Sembra la terra prima di giorno, un piccoletto grande presebbe. Nel cielo azzurro tutte le stelle puoi restare quasi in attesa. E da qualsare le ceramelle il loro dolce suono di chiesa. Suono di chiesa, suono di chiostro, suono di casa, suono di culla. Suono di mamma, suono del nostro dolce passato piangere di nulla. O ceramelle dagli anni primi, davanti il giorno, davanti il vero. O che le stelle se lasso sublimi, consia del nostro breve mistero. Che non ancora si pensa al pane, che non ancora si accende il fuoco. Prima del suono delle campane, fateci dunque piangere poco. Non più di nulla, sì di qualcosa, di tante cose. Ma il cuore lo vuole, quel gran pianto che poi riposa, quel gran dolore che poi non duole. Sopra le nuove pene sue vere, voi quei sigulti senza ragione, sul suo morto, sul suo piacere, voi quelle antiche lacrime buone. Mi è sempre piaciuta questa poesia di Giovanni Pasquoli. L'altra invece è la Befana. È una poesia, queste sono poesie, se andate a cercare su Pasquoli, queste sono poesie minori. Soprattutto questa qui della Befana, che è una specie di filastrocca, però in fondo c'è un messaggio molto forte. Soprattutto di questi tempi è un messaggio che impugnano nello stomaco. Molto elegante, come fa il Pasquoli. Molto gentile, ma è un pugno nello stomaco. Soprattutto di questi tempi che c'è tanta gente in povertà assoluta. Vabbè, la Befana. Viene, viene la Befana. Viene dei monti a notte fonda, come stanca. La circonda, neve, gelo e tramontana. Viene, viene la Befana. Alle mani, al petto incroce. E la neve è il suo mantello, e il gelo è il suo pannello, ed è il vento la sua voce. E si accosta piano piano alla villa a casolare, a guardare ed ascoltare, or più spesso, o più presso o più lontano. Piano, 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 piano. Che c'è dentro quella villa? Uno stropiccio leggero, tutto è cheto, tutto è nero. Un lumino passo e brilla. Che c'è dentro quella villa? Guarda e guarda tre lettini, con tre bimbi a nanna buoni. Guarda e guarda dei capitoni, c'è tre calze lunghe e fini. Oh, tre calze e tre lettini. Il lumino brilla e scende, e ne scricchiono le scale. Il lumino brilla e sale, e ne palpita le tende. Chi mai sale e chi mai scende? Quei suoi doni, mamma è scesa. Sale con il suo sorriso. Il lumino le arde in viso, come lampada di chiesa. Quei suoi doni, mamma è scesa. Viene, viene la Befana. Viene dei monti a notte fonda, come stanca. La circonda, neve, gelo e tramontana. Viene, mani al petto in croce, e la neve sul mantello, e il gelo sul pannello, ed il mento la sua voce. E si accosta piano piano la villa casolare, a guardare ed ascoltare, or più spesso più lontano. Piano piano, piano piano. La Befana alla finestra sente e vede se lontana. Passa con la tramontana. Passa per la via maestra. Trema ogni uscio, ogni finestra. Che c'è nel casolare? Un sospiro lungo il fiocco. Qualche luce di fuoco, brilla con il focolare. Ma che c'è nel casolare? Guarda e guarda, tre strappunti, tre strappunti, con tre bimbi e nanna buoni. Tra le cene dei carboni c'è tre zoccoli consunti. Ho tre scarpe e tre strappunti. E la mamma veglia e fila, sospirando e si gozzando, e rivira quando quando ho quei tre zoccoli in fila. Veglia e piange, piange e fila. La Befana vede e sente. Fugge al monte c'è che l'aurora. Quella mamma piange ancora su quei bimbi senza niente. La Befana vede e sente. La Befana sta sul monte. Ciò che vede, ciò che vide. C'è chi piange e c'è chi ride. Essa nuvoli alla fronte. Mentre sta sul bianco monte. Praticamente c'è chi piange e c'è chi ride. Come vi ho detto settimana scorsa nell'altro video, quello far del bene fa bene. Anche questo video faremo una playlist con questi video. Ogni tanto ne faremo qualcuno sul fatto che far del bene fa bene. Oggi sembra che c'è un casino di gente in povertà assoluta. Sento parlare in televisione di 6 milioni di persone in povertà assoluta. Siamo 60 milioni di italiani, vuol dire il 10%. C'è un sacco di gente superprivileggiata. C'è quelli che timbrano, lo escono, o timbrano cartellini, 10 cartellini. C'è gente che non va a lavorare e sono superprotetti. E poi c'è chi non ha nessuna protezione. Come il rider, ma come un sacco di gente che poi diventano invisibili. E non va bene così. Come dicevo, una società così non ha futuro. Per cui bisogna cercare di fare qualcosa, quello che si può, per aiutare anche chi è in molto difficoltà. Questa roba qui l'avevo già detta, di Hemingway. Alcuni anni fa c'era un amico, è morto quest'anno. Un caro amico, Pietro, che faceva il grafico. Quando facevamo dei listini, dei cataloghi, lui mi faceva la copertina di questi cataloghi. Mi metteva su me, in mezzo alle orchidee. Mi ricordo una volta, mi ha messo su, io, una fotografia, io in mezzo alle orchidee, ma una fotografia che aveva un cappello da baseball, che non ho mai avuto. Gli ho detto, ma quando è che mi hai fatto quella foto lì? Eh, ma con lì non sei te, sei Hemingway. Ma dai, eravamo identici. Solo che lui aveva cappello, io no, con il cappello eravamo uguali. E allora ho voluto leggere qualcosa di Hemingway. Hemingway è esattamente il contrario di me, perché lui è un sanguinario, io sono un vegano. Però una volta dovevo fare una ricerca sull'etica per i miei scritti notturni, e ho trovato una frase geniale di Hemingway, perché se cercate etica, è una cosa noiosissima, trovate ethos, una roba. Ho trovato una frase di Hemingway che in una riga dice cosa è l'etica, perfettamente. Dice una cosa è etica se quando l'hai fatta stai bene, e non è etica se quando l'hai fatta ti senti a disagio. E io per esempio masercare mi sentivo a disagio. Però, quando fai qualcosa di buono, ti senti bene. E questo star bene è positivo anche per la salute, perché le emozioni positive stimolano le difese immunitarie, e le emozioni negative invece inibiscono le difese immunitarie. Nell'altro video che abbiamo fatto, parlo del bene sta bene, c'è stata una signora che ha fatto un bellissimo messaggio, un bellissimo commento, e dice quando faccio del bene, mi sento leggera. Sento come se camminassi sollevata da terra. È vero. Quando dico che le orchidee sono una medicina per l'anima, ma è vero, lo sapete tutti, gli appassionati orchidee, che quando hanno dei problemi così passano qualche minuto con loro orchidee e gli passa tutto. Perché ti estranea un po' da tutti i problemi, da tutte le cose. Lo stesso se fate del bene. Se fate qualcosa di buono, vi torno a voi, vi torno in salute, salute fisica, perché appunto è un antidoto alle emozioni psicosomatiche. E soprattutto, poi c'è un'altra cosa, e questo fa bene a noi, ma c'è un'altra cosa. Tanti anni fa, come dicevo nell'ultimo video, una volta ho visto questo molto recente, di Bertini, di Bersani, che diceva che appunto questi ragazzi qua sono sfruttati, ma non solo sono sfruttati, sono umiliati, umiliati. E non va bene, non va bene. Tanti anni fa c'è stato un dibattito televisivo, ma forse trent'anni fa o quaranta, che c'era tra gli altri anche Bertinotti. Era successo che c'era adesso una grande fabbrica, una grande azienda che era fallita, era chiusa, e c'era un sacco di gente, tutti gli operai senza lavoro. E allora c'era questo dibattito, e Bersani ha detto una cosa che mi era stata impressa, ha detto, guardate che questi qui sono, adesso non so se erano mille persone, sono un problema, sono un problema abbastanza relativo, confinato, ma quando diventano tanti, diventa un problema più grande, ma quando sono tanti tanti, fa la rivoluzione, c'è anche questo problema qua. Adesso c'è, dovresti leggere in internet, le dieci regole del controllo delle masse.